5 cose che non sapevate su Friends, la sitcom più iconica di tutti i tempi. La relazione fra Chandler e Monica sarebbe dovuta essere solo una cosa da una notte via, ma siccome i fan piacque talmente tanto all'epoca e gli attori erano talmente in confidenza che erano felici di registrare le scene insieme, la cosa venne portata avanti e questa fu una delle coppie più iconiche della storia delle serie. La celebre stato del cane bianco nell'appartamento di Joy in realtà apparteneva veramente a Jennifer Aniston, solo che quando i membri del cast e la crew videro questo enorme cane bianco, decisero di inserirlo nella serie come oggetto iconico. Poco prima della creazione di Friends, Matthew Perry propose una sua serie alla NBC, ma siccome era troppo simile appunto alla stessa Friends che era allora neonata, il progetto venne rifiutato ma lui venne chiamato per la parte di Chandler. Forse non sapevate che su questa porta iconica dove c'è il quadretto giallo ci sarebbe dovuto essere uno specchio che però si ruppe nei primi episodi, rimase così solo lo spioncino che però divenne leggendario. Ed infine vediamo come Friends è stata la casa di moltissime guest star famose. Parliamo di Brad Pitt, George Clooney ma più di 40 personalità di Hollywood, Winona Ryder, Julia Roberts e tanti altri attori. Ragazzi ditemi nei commenti se avete mai visto.